Draga Stankovic, grande delusione per questa semifinale di Coppa Italia, una partita con troppi alti e bassi, troppa discontinuità della formazione della Luka. Sì, un'altra brutta sconfitta come negli ultimi due anni, già terza volta di fila che perdiamo semifinale in risultato 3-2. Oggi, come hai detto, non siamo riusciti a giocare a nostro livello tutta la partita, primo e terzo set con troppi errori, soprattutto dopo una difesa che ci è mancato oggi. Non siamo riusciti a mettere giù qualche contraddacco e loro hanno voluto più questa vittoria. Una grande delusione, direi una partita con molti errori anche da parte vostra, no? Sì, questo come ho detto prima, avevamo voglia di dare il massimo oggi, abbiamo provato non tanto a rischiare, soprattutto nel primo set. Poi dopo abbiamo visto che se non diamo il nostro massimo non possiamo vincere oggi, abbiamo rischiato secondo me anche troppo. Qualche pallone che non dovevamo tirare o che dovevamo giocare e rigiocare e fare il nostro gioco. Oggi è mancato questo, troppi errori in attacco, troppi errori in battuta, però alla fine era una partita diciamo a un punto. Dragan, cosa manca a questa lube per fare un salto di qualità? In questa stagione finora siete mancati proprio nelle partite più importanti. Manca di giocare nel stesso livello ogni set. Abbiamo visto che quest'anno in campionato non c'è una squadra che prima della partita possiamo dire che andiamo e vinciamo tre punti. Dobbiamo dare il nostro meglio a chiunque sia dall'altra parte. Non ci siamo riusciti questo oggi, non ci siamo riusciti in due sconfitte che abbiamo fatto in questa stagione. Quindi se riusciamo a giocare ogni set massimo nel stesso livello possiamo aspettare di vincere qualcosa.